Un'occasione per divertirsi ma anche per riflettere. E' questo il senso di Giochi senza Barriere 2017, manifestazione che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul rapporto tra sport, giochi e disabilità, rimuovendo i vari pregiudizi esistenti su questo tema. Come sempre, Piazza Martiri a Teramo non sarà una gara tra associazioni ma una vera e propria sfida all'indifferenza. L'iniziativa, che quest'anno ha anche il sostegno del COGE, il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Abruzzo, è promossa dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Teramo insieme a Comune e Prefettura di Teramo. Anche quest'anno in piazza come sfida all'indifferenza? Sì, questo è un po' uno slogan che ci accompagna ormai, questa è la non edizione, da tanti anni siamo su questo aspetto, diciamo, di mandare questo messaggio. Quest'anno abbiamo avuto anche una sensazione che le associazioni aspettassero ormai questo momento, c'è un appuntamento desiderato, un momento in cui vogliono dire con forza questo, che appunto ci sono, hanno il piacere di dire che si vogliono divertire. Comunque la loro condizione è, qualsiasi cosa li possa in qualche modo mettere in difficoltà, viene vinta dal desiderio di esserci, di voler vivere la propria condizione con felicità, di poter giocare, di poter condividere un pezzo di vita insieme agli altri. Quante associazioni fanno parte del vostro Centro Servizi? L'associazione in generale sono oltre 400, però diciamo, sul mondo della disabilità, adesso il numero perfetto non c'è, di quella che è la condizione specifica dei giochi senza aprile, sono 10 realtà che con noi stanno in piazza. Quest'anno abbiamo avuto anche una chicca che un osservatore del Centro Servizi di Pesaro sarà con noi questa serata perché vogliono anche loro, hanno visto che è un momento di grande coinvolgimento anche della cittadinanza, farlo, proporre alle associazioni di Pesaro. Le protagoniste saranno, come negli anni passati, le associazioni dei disabili. Nelle sfide si alterneranno i ragazzi di Fondazione Anfas Teramo, Associazione Senza Barriere di Teramo, AESMA, Associazione Sordi Italiani, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Ammodotuo Onlus, Abruzzo Autismo Onlus, Associazione Italiana Persone Down e Cooperativa Sociale Polis. Quest'anno, ma come l'anno scorso, giocheremo con i nostri bimbi, speriamo che ne vengono tanti perché con questo caldo, poverini, sono al campus, quindi però sì, giocheremo tutti insieme, ci uniremo ad un'altra associazione, l'associazione Down, per fare un gioco in piazza, tutti quanti insieme. La vostra associazione quanti bambini autistici segue? Praticamente noi seguiamo tutti i bimbi, tutti i bimbi più piccolini, non abbiamo proprio un numero preciso perché noi siamo aperti a tutti, non abbiamo soci privati, soci fissi, quindi chiunque vuole partecipare con noi è aperto, vengono e giocano.